La cucina del maiale, questo perché siamo proprio nei mesi predisposti nel quale nell'antichità si ammazzava appunto il maiale. Abbiamo con noi Massimo Rossi, il nostro oste, che ci farà vedere dei piatti già pronti, ma anche un qualcosa di veloce da fare, e il nostro storico, il nostro Giovanni Romanelli, che ci spiegherà anche l'importanza di questo animale fin dall'antichità, fin dal mondo classico, perché ha avuto un'importanza unica. Allora, la ricetta che ci proponi, carissimo Massimino? Allora, ho preso delle fettine di Arista tagliate molto sottili. Guarda, quindi sollevale un pochetto, ecco, guardate. Sottilissime. Aspetta qua, vai. Ok, e le facciamo a straccetti, o mi sono già preparato una dadolata di carote e un po' di cavolo. Ingredienti di stagione. Che così almeno le spadegliamo in alto, facciamo questi straccetti, creiamo un piatto che avrà una bella cromaticità e al tempo stesso potrà essere trasferito immediatamente nel panino per mangiarlo. Anche perché per avere un effetto cromatico in questa stagione, voglio dire, uno pensa al pomodoro, il pomodoro in questa stagione insomma non c'è, però già le carote e i broccoli, sono belli perché guarda che bel colore. E sono prodotti di stagione che fanno benissimo. Poi hanno bisogno di cotture veloci, anzi, anche perché se no. Anzi, le potresti quasi mangiare da crudi, no? Perciò ciò che puoi mangiare da crudo, meno cose. Io i cosiddetti broccoli e le carote le mangio da crude, anche se le carote per avere il massimo nutrienti, le carote, ne andrebbero mangiate un po' scottate. Infatti noi lo scottiamo un pochettino. Ecco, e quindi andiamo oltre. Vai. Maiale, quell'animale di cui si dice non si butta via nulla, nulla. E l'ha reso immortale fino ai giorni nostri, anche per questa motivazione. Esatto. Allora, dimmi un po'. Dunque, tu diciamo, il maiale è forse il primo animale che è diventato domestico. E' stato importante in tutte le civiltà dell'Occidente, che noi siamo... Esatto, in Oriente c'è la pecora, in Occidente c'è il maiale. Non possono mangiare il maiale, quindi la cultura, la religione. Esatto. Noi siamo eredi dei Longobardi, i quali sono venuti nel 600 e dopo ancora 600 anni che stavano qui, Ancora oggi, in molti aretini, nel 1200, negli atti notarili, si parla di morging cappe, eccetera. Vivere alla maiale da Longobarda, quindi vuol dire che proprio si è radicata in noi. Esatto. E quindi il maiale nostro è proprio un... Prego, prego, scusa. Viene a noi mutuato dai Longobardi. E' una carne molto facile a conservarsi, perché una volta riporata dal sangue si sala, oppure si mette sotto strutto. Guardate, ora poi me lo dici anche tu Massimo, però quando si dice strutto si pensa a questo, ossia la parte bianca. Guardate, perché questo era il modo, è stato il modo di condire fino a che non è entrato l'olio essa vergine di oliva. Era questo il modo di... era l'olio di casa, era quello dove si friggeva, nello strutto, dove si faceva, si cucinava. Si conservava. E si conserva molto bene la carne, specialmente i salcicci e i fegatelli. O i fegatelli, che poi io quando, guarda, io c'ho, la mia mamma quando faceva i fegatelli, li lasciava lì e quello è, l'olietto da liquido che era strutto, sì. Perché è liquido, ma quando si raffredda diventa solido e assume questo colore qua, che è bianco. È veramente una magia dal caldo al freddo e diventa così. È un modo anche per conservare i fegatelli, per conservare le salcicce, le salcicce. Ok? Bene. Allora, un attimo torno da cuoco qua. Certo. In una maniera, lasciamo cuocere quelli. Intanto però, ecco, un'altra dimostrazione di come viene usato il maiale. Questa è la carne salata, questo è un capocollo di maiale crudo, bene. È una carne salata che poi la faccio marinare sotto il trebbiano, il vino bianco. È un modo per poterla conservare. Perché poi il capocollo è un'altra parte del maiale che si trova... Saporitissima. È al collo. È saporitissima, sapete perché? Perché noi siamo amanti del magro, ma la carne più marezzatura ha, ossia più grasso ha, e più è saporita e quindi è un pezzo... La carne solo magra ha un sapore. Gli intenditori vogliono i pezzi, tra virgolette, meno nobili. Questo invece abbiamo fatto un ragù, praticamente è tipo una capricciosa, fatta con varie parti di maiale e abbiamo fatto un ragù e ci abbiamo fatto le nostre pappanelle. A noi ci piace il sugo o con le pappardelle? Infatti, ma si vede. Non lo voglio distruggere questo piatto, però le pappardelle sono in casa. Io ho imparato una cosa da Napoli, che cosa significava gli spaghetti con pomeriggio in goppa? Da allora i piatti devono essere ben conditi, perché se no... Quando la pasta è solamente verniciata di sugo non mi piace. No, io ci dico ci deve affogare, scusate, ma mi viene... Ci deve affogare. E poi è un altro piano, questo no, me lo dici dopo, il ritorno da Giovanni. Aspetta. Allora, da noi in maniera particolare poi, durante il dominio francese, quindi fine 1700-1800, i francesi fecero una inchiesta sui prodotti tipici del naretino, quelli che andavano più... Di più, sì. Esatto. Perché anche i piatti sono fatti. E è venuto fuori che il prosciutto di Loro e di Stia avevano... Di Loro su Fenna. Di Loro su Fenna. E di Stia. Di Stia. Avevano un mercato molto importante in Toscana. Però il maiale lo dobbiamo festeggiare perché da dicembre che si cominciava a ammazzare il maiale, poi il fatto che è stato appunto Sant'Antonio, il 17 di gennaio, insomma era questo il periodo nel passato, ora il maiale si ammazza tutto l'anno grazie alla tecnologia, alle conservazioni eccetera, però una volta il periodo invernale era questo e si ammazzava il maiale e da lì si cominciava a fare i pezzi, più che si deterioravano prima e via a Pasqua si cominciavano le prime... Per esempio, perché a Pasqua si mangi il capocollo? Perché essendo il pezzo più piccolo, era quello che era pronto prima. Perché la stagionatura poi non era un prosciutto che ci voleva 24 mesi eccetera eccetera Era una delle parti prima di essere pronte. Però prima si mangiavano tutti, io penso anche al sanguinaccio, tutte le parti del maiale perché non si butta via niente, tutto veniva usato. Veniva preso dal sangue fino ai peli. Oh, perché con pelle si faceva i pennelli. Poi dopo le unghie si costavano e si facevano le candele. Sì, ma poi si potevano fare benissimo anche il pezzettino di zampuccio, veniva salato e poi veniva cucinato con i fascioli. Con i fascioli. Della sede non si butta via nulla e la nostra cultura veramente fa sì che siano nati dei piatti, io penso la cotica con i fagioli. Stupendo. E invece di mettere il sale ci mettiamo qualcosa di un po' più particolare. Visto che questa è una salsa di lenticchie. La salsa di lenticchie che... Aspetta, lenticchie prodotte coltivate e trasformate a molta salsa vinera. Perché lui si diverte anche in questo, no? Oltre che cucinare, grande sommelier eccetera eccetera, va alla ricerca anche dei prodotti. Perché c'è gente che usa la salsa di soia, questo è il suo sostituto ma fatto in casa e garantito. Con prodotti del territorio e quindi dà anche, si dice sempre di ridurre il sale nei piatti. Usando questa salsa qui eviti di mettere il sale. È importante anche perché il sale sale va sempre ridotto per determinate motivazioni che riguardano poi la nostra salute e attraverso le spezie, attraverso, perché anche i cavolini come si chiamano? I broccoli, scusate, anche quelli hanno molta sapidità. Questa è la differenza anche, quando te sali c'è comunque un'estrazione di liquido, il prodotto ti diventa più secco. Quindi anche alle signore a casa, diglielo, dobbiamo sempre salare alla fine. Alla fine, appena appena, altrimenti quando la carne è già rosolata, il prodotto è rosolato in maniera tale che non c'è estrazione di liquido. Perché se noi mettiamo il sale comincia a fare acqua o che sia carne, a volte si dice ma questa carne quant'acqua è, non è buona. Ma no, siamo noi che attraverso il sale estraiamo il liquido e poi al momento in cui si mangia non sa di niente perché i succhi che danno il sapore alla carne non ci sono più. Aggiungiamo qualche altra cosa del maiale? Una cosa, per esempio, due prodotti che sono piuttosto non all'ordine del giorno, insomma. La prima è la tarese, che è tipica proprio del Valdarno. Si nomina pochissimo. La tarese che è un pezzo di carne. È la spalla e un pezzo di pancetta. Che in pratica viene stagionata. Sì, viene salata. La tarese del Valdarno. Esatto. E poi, questo è rarissimo, il prosciutto affumicato del Casentino che diventa proprio una rarità. Ma perché affumicato? Diglielo il perché. Affumicato perché veniva messo nel cammino per una trentina di giorni circa utilizzando come legna della legna aromatica, specialmente il Ginepro. Ma perché, ora il Casentino voglio dire è una valle che si raggiunge bene, ma probabilmente è nato di farlo vicino al cammino perché mancava il sale e quindi era un modo. O era troppo caro il sale. O era troppo caro, mancava il sale e quindi anche l'affumicatura è un altro modo di conservazione. Pensiamo al nord dell'Italia, lì i salumi sono quasi tutti stagionati. Sì, ma anche pesce, tutto, insomma, baccalà. Bene, mettiamolo dentro al panino perché ovviamente il panino è perfetto. Prima lo metto sempre nel piatto perché la filosofia... Guardate, perché poi ho anche un modo più veloce, farà straccetti il maiale, no? Oppure qualsiasi carne, penso a pezzi di pollo, penso di... Lo straccetto si cuoce prima e quindi però lo sarà trasferito anche dentro al panino. Senti, questo qui che piatto era? Questi sono dei filettini di maiale all'arancio, fatto un piatto un po' innovativo da mettere insieme la tradizione e sotto ci sono le foglie del ravanello. Il ravanello è quello rosso, quindi si parla tanto di spreco alimentare, delle foglie, eccetera. Se si resta il ciuffettino, quello verde delle radicine rosse che sono tante buone in pinsimonio, ci possiamo creare anche un contorno e quindi anche questa è un'altra idea. In questo caso poi sono saltate con l'aglione, vedi c'è pezzettini di aglione. Però insomma, proviamo, invece di buttarle via mettiamoli in padella. Ma non mi ha inventato niente, sono antiche ricette. Antiche ricette, però io devo dire, guarda, questo, guarda, questo barattolo qua mi ricorda i barattoli della mia nonna Concetta. Sì. Perché la mia nonna Concetta conservava... O le garaffe. Sì, ma più che altro nei barattoli della mia nonna, poi ognuno giustamente... Qui, lo sai che cosa manca che non vedo? Nel senso perché la mia nonna dice, la foglia d'alloro. La foglia d'alloro che era sempre presente, ma io che ne ho i barattoli della mia nonna, ma lei era del casentino, quindi usava un'altra formula. Perché il modo di conservare non era sott'olio, ma era sotto lo strutto di maiale. Sì, essendo salsiccia eccetera non ci è stata messa di proposito. Certo, no. Se era fegatelli allora ci andava la foglia. Ecco, vedi, allora aveva i fegatelli, ecco, giusto. Allora, dal miracolo del maiale, del quale non si butta via nulla, al panino con, come lo chiamiamo, sto panino per Alex? Con arista e verdure di stagione. Spostiamo che cosa... Allora, aspetta, la mettiamo qua, che l'abbiamo già decodificata e lo mettiamo lì. Allora io ringrazio il nostro Massimo Rossi, Oste, che ci ha presentato questa cucina con il maiale e lo storico Giovanni Romanelli che ce l'ha decodificato ancora meglio. E questo è il miracolo appunto anche della natura. Vero.